9 7 8 9 5 6 7 8 8 9 10 7 9 9 5 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 16 16 17 16 17 18 19 20 20 18 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.